Ha servito il numero 3, respinto, non senza difficoltà, il controllo del pallone che infatti torna tra i piedi di Panci che la batte e lì praticamente è un tap-in molto facile per il 2-0 al dodicesimo minuto del primo tempo, qui sul campo del Garbaglia. Combatte ancora molto bene il numero 3 del Bar Crystal, Panci non riesce a sarsi della palla, è arrivato il terzo gol nel frattempo proprio di Panci, scusate anche la leggera disattenzione, eravamo impegnati a controllare un altro punto del campo, è arrivato nel frattempo il 3-0 del Bar Crystal. L'avversario può ripartire adesso il Bar Crystal con il suo numero 7, bravo a divincolarsi con questo pallone, a suggerirlo sul compagno, ancora Franci va a realizzare, fa doppietta personale, è arrivato il quinto gol del Bar Crystal. Allarga ancora su Franci, servita adesso del giudice che va ancora da Franci che va a concludere, arriva ancora il gol del Bar Crystal, il sesto al nono minuto della ripresa, 6-0 per il Bar Crystal sul Cottini. Ancora per Franci, intanto in sovrapposizione c'è anche Mortaloli, Franci decide di andare da solo e va a pescare ancora l'angolino, questa volta il sinistro alla destra di Calassi e arriva l'ottavo gol del Bar Crystal.